Formula guida sicura, come mai vi trovate qui questa sera? Ci troviamo qui perché siamo stati contattati da un'azienda di Arezzo, Cloud Italia, che ha voluto fare i corsi di guida sicura per i loro dipendenti, sia commerciali che tecnici. E quindi siamo qui grazie anche alla Motorauto, il gruppo Motorauto, che ci ha messo a disposizione le loro automobili e con le quali abbiamo potuto fare il corso sia oggi che domani. Infatti siamo venuti a curiosare, stiamo vedendo delle immagini, in che cosa consistono questi corsi? Allora, consistono nel dare la possibilità a chi vuole conoscere, avere maggiore conoscenze sui nuovi veicoli, quindi nuovi sistemi di sicurezza, modalità di guida, come funzionano, quanto ci possono aiutare e soprattutto quanto possono evitare l'incidente stradale. Perché si sente spesso parlare appunto di rischi, di incidenti, avere queste capacità, queste competenze può essere utile per prevenire anche tragedie? Certo, sicuramente un corso di guida sicura è poter avere la possibilità di provare in sicurezza le varie situazioni che potrebbero verificarsi durante la guida quotidiana di un veicolo, quindi situazioni di pericolo, e acquisire il gesto motorio corretto per saper reagire e quindi evitare appunto il peggio. Quindi Formula Guida Sicura è un'associazione? Che cos'è? È una società che è a sede a Grosseto, è strutturata per organizzare corsi, come in questo caso, in forma esinerante su tutti i veicoli.